Ciao a tutti, in questo video svolgo alcuni esercizi di termodinamica. La cosa mi è stata chiesta di recente in un commento, per cui ho deciso di mettermi finalmente a farlo, visto che ancora non l'avevo fatto. Ora, qui in questa schermata troverete tre esercizi che adesso vado a svolgere, riguardano principalmente le trasformazioni dei gas e il primo principio della termodinamica, quindi parleremo anche di lavoro svolto in una trasformazione, eccetera. Userò dei passaggi, dei concetti, delle formule che ho spiegato nei video precedenti, quindi in caso la cosa fosse utile potete rivedere quelli, se riesco li linko qua in alto appena ho finito, se mi ricordo di farlo, e adesso inizierei a farvi vedere gli esercizi uno per uno. Il primo che vi propongo qui parla di un gas, cioè un certo gas, non è specificato quale, ma adesso qui non è importante, che si trova a un volume iniziale di 500 cm³, un volume finale di 100 cm³, quindi verrà compresso, quindi questo gas viene compresso, inizialmente la pressione di un'atmosfera ci chiede qual è la pressione finale, e sappiamo che tutto quanto avviene a temperatura costante. Allora, questo vuol dire che sta avvenendo una trasformazione isoterma, adesso non rientro nel dettaglio a spiegare cosa vuol dire che la trasformazione è isoterma, ma capite anche voi che, insomma, dandoci dei valori iniziali di volume e di pressione, e chiedendoci la pressione finale, conoscendo il volume finale, e di fatto, anche se non la conosciamo, sappiamo che la temperatura è sempre la stessa, capiamo che forse per risolvere questo esercizio basterà applicare in modo corretto l'equazione di stato. Voi vi ricordate qual è l'equazione di stato, spero, se altrimenti appunto ogni video è spiegata. Noi sappiamo che per un gas, un gas ideale in realtà, ma in questo caso i gas sono approssimati a questo, sappiamo che la pressione per il volume di un certo gas, moltiplicati fra loro, è uguale al numero di moli del gas, che in questo caso non è specificato, ma appunto vedremo che non serve, per R, che è una costante, si chiama costante dei gas, vale un valore fisso, 8,31, ma quando poi servirà lo useremo se servirà, per la temperatura del gas. È importante che i valori qui siano espressi in pascal, in metri cubi e in gradi kelvin. Questa è una formula che ci dice che, anche se cambiano un po' le caratteristiche del gas, aumenta la pressione, aumenta il volume, aumenta qualcos'altro, quello che deve rimanere vero è questa uguaglianza, quindi questa relazione. Ripetiamo un attimo cosa abbiamo qua. Abbiamo volume iniziale, volume finale, pressione iniziale, pressione finale, la temperatura è costante. Se T è costante vuol dire che, che so, io potrei scrivere questa formula nel caso iniziale, quindi Pi per Vi è uguale a N per R per temperatura iniziale, ma anche Pi finale per V finale è uguale a N per R per temperatura finale. Ma temperatura finale e temperatura iniziale sono uguali, per cui di fatto otterrei questa cosa. Questo mi fa capire che allora in questo particolare esercizio non c'è bisogno di conoscere il numero di moli o di conoscere la temperatura iniziale, che poi è quella costante, del gas. Ci basta notare che il prodotto di Pi per V all'inizio e alla fine è uguale in entrambi i casi allo stesso valore, perché tutto questo è chiaramente una costante. Perché costante? Perché dal numero di moli si assume che non cambi, R è una costante appunto per definizione e T viene specificato nel problema che è costante. Per cui com'è che ricavo la pressione finale? Beh, direttamente senza fare altri ragionamenti complicati, mi basterà uguagliare pressione finale per volume finale uguale a pressione iniziale per volume iniziale, visto appunto che entrambi sono uguali alla stessa costante. E da qui, visto che la mia incognita è Pf, ricavare come una formula inversa, usando questa formula inversa, Pf uguale Pi per volume iniziale fratto volume finale. Vedete che quello che ho fatto è stato dividere a sinistra e a destra per Vf. Questa è la formula in cui io devo applicare, insomma, inserire i numeri. Ora, se ci fate caso, i numeri sono espressi in unità di misura che non sono quelle standard. 500 centimetri cubici non sono metri cubi, andrebbero trasformati, no? Se vi ricordate come si fa la trasformazione, uno qua dovrebbe scrivere che questi 500 centimetri cubici corrispondono a 500, perché cosa? Quanti centimetri cubici in un metro cubo? Ci sono due spazi, no? Centimetri, decimetri e poi metri, quindi due spazi da coprire, ma al cubo vuol dire 6 gradini, no? 2 per 3. Perché vuol dire che questi sono 10 alla meno 6 metri cubi. Dovrei fare questa cosa per il volume finale, verrà 100 per 10 alla meno 6, beh, qua poi potrò andare avanti se volete a sistemare il numero. E anche le atmosfere andrebbero cambiate, le hanno portate in Pascal. Forse sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, che un'atmosfera, ok, di fatto equivale alla pressione a livello del mare, quindi la pressione atmosferica a livello del mare, 1,01 per 10 alla quinta Pascal. Poi anche qui i valori possono essere diversamente approssimati, io sono abituato a usare questo numero, ma appunto niente impedisce di usare un'approssimazione migliore o peggiore di questa, no? 1,01 per 10 alla 5 Pascal. Ma perché non sto facendo, insomma, non ho fatto subito questo passaggio e non ve lo sto facendo fare nel dettaglio? Perché se osservate la formula, cos'è che abbiamo qui? Abbiamo una pressione finale che è la nostra incognita, che è uguale a una pressione iniziale, che avrà la stessa unità di misura, e poi il rapporto fra due volumi. Ora, che questi due numeri io riscrivo come centimetri cubici, o come decimetri cubici, o come metri cubi, non cambia nulla, perché nel momento in cui io metto i numeri, le due unità di misura si semplificano. E vedete anche voi che, per esempio, questo 500 per 10 alla meno 6, quando lo andrò a dividere per 100 per 10 alla meno 6, i 10 alla meno 6 non hanno alcun effetto, si semplificano. Per cui, visto che in questa formula ho riconosciuto che le unità di misura si semplificano, che la pressione finale ha la stessa unità di misura di quella iniziale, sono libero, se voglio, di usare anche unità di misura che non sono quelle standard. Lo posso fare qui, perché ho verificato che effettivamente non ci sono differenze. Si può sempre fare questa cosa se si verifica, appunto, che non ci sono differenze, ma è importante verificarlo. Se si hanno dei dubbi, se non siete sicuri che questa cosa effettivamente funzioni, usate le unità di misura standard, quindi convertite in pascal e in metri cubi. Se invece notate che effettivamente si può fare, allora siete liberi anche di usare atmosfere e centimetri cubici. Quindi dobbiamo inserire i valori. Questa era una atmosfera, quindi 1 al posto di P, per volume iniziale era 500 e quello finale 100, quindi 500 fratto 100, semplifichiamo gli zeri con gli zeri, mi rimane che tutto farà 5 atmosfere. Per cui se mi accontento del risultato in atmosfere, magari, che so, il libro me lo chiede così, oppure non è importante che io esprima il valore in pascal, ora questa è la risposta. Questo gas è stato compresso, siamo passati da 500 centimetri cubici a 100 centimetri cubici, quindi il volume iniziale era 5 volte quello finale, e chiaramente io mi aspetto un aumento della pressione. E visto che questa trasformazione è isoterma, per cui il prodotto P e V rimane costante, allora se il volume diventa un quinto, la pressione diventerà 5 volte. E quindi effettivamente mi aspetto queste 5 atmosfere di pressione. Quindi niente di complicato qua, questa è una trasformazione isoterma, non ci dava la temperatura iniziale, quindi non potevamo calcolarci da qua, che ne so, quanto valevano n o r, ma non so quanto valeva n, r è una costante, quanto valeva n, ma abbiamo sfruttato il fatto che essendo T costante noi possiamo uguagliare queste due grandezze. E questo è il primo esercizio. Passiamo adesso al secondo, che vedrete è molto simile a questo, però appunto cambia qualcosa, se no non ve lo farei fare. E questa volta il secondo esercizio ci dice che abbiamo un contenitore che contiene 4 litri di un certo gas, potrebbe essere anche banalmente aria, alla temperatura iniziale di 20 gradi centigradi e che viene portato alla temperatura finale di 100 gradi centigradi, quindi questa volta non è più isoterma, si ha un riscaldamento. Ci chiede qual è il volume finale di questo gas, ma ci viene specificato che la pressione è costante, quindi in questo caso siamo all'interno di una trasformazione isobara, quindi qualcosa che avviene con pressione costante. Se ci avete fatto caso, insomma la struttura è molto simile alla precedente, quindi anche qua prima dovevo calcuare pf, ora è vf, ma il concetto sarà sempre lo stesso, io ancora utilizzerò l'equazione di stato, p per v uguale n per r per t. Questa volta però quello che rimane costante è p. Ora io dovrò girare questa formula, fin da subito, per riconoscere qual è il prodotto, il rapporto, insomma quali grandezze rimangono costanti durante questa trasformazione. n e r sono costanti per definizione, n è il numero di moli del gas che sto assumendo, non cambi, perché appunto non ci sono aggiunti, non c'è un aumento di materia, di gas nel contenitore, nemmeno viene tolto, quindi n è costante, r è la costante di gas appunto, chi è che rimane costante fra p, v e t? L'abbiamo detto, la pressione, quindi p rimane costante. Sarebbe comodo allora avere in questa formula p insieme a n e r da una parte, e v e t insieme dall'altra. Ora non è complicato da fare, basterà dividere per p a sinistra e a destra, e anche per t a sinistra e a destra. E quello che ottengo è che v fratto t, appunto immaginatevi, questa t viene portata sotto, questa p viene portata sotto anche lei, uguale a n per r su p. Questa quantità che c'è a destra, adesso è costante. Costante. Per cui v su t, questa volta è il rapporto che rimane costante. Allora, v iniziale su t iniziale sarà uguale a v finale su t finale. Lo scriviamo, facciamo partire dal finale che mi è più comodo, v finale fratto v iniziale è uguale, scusate, faccio casino, v finale su t finale è uguale a v iniziale su t iniziale. Solo ho scritto appunto che il rapporto di queste due cose, queste due grandezze, v su t, deve rimanere costante. E la mia incognita è vf, per cui ancora, come prima, cercherò di fare la formula inversa. Per cui vf, qua sarò uguale, basterà moltiplicare per tf a sinistra e a destra, mi verrà vi che moltiplica tf su ti. E qui, vale un po' il discorso di prima, sarei tentato di ragionare dicendo, beh, t e t hanno la stessa unità di misura, quindi si semplificheranno una volta che io metto i valori, quindi non è importante che io converta in kelvin, eccetera. Attenzione però, questa volta questa cosa non funziona. E non so, non vi sto imbrogliando, non vi ho imbrogliato prima, qual è il problema? Che prima noi abbiamo trasformato, avremmo dovuto trasformare, una grandezza da centimetri cubici a metri cubici. La differenza che c'è fra queste due unità di misura è solo un fattore moltiplicativo, una potenza di 10. C'è solo questo 10 e la meno 6 che cambiano, ma, se ci pensate, 0 cm sono sempre 0 cm, sono anche 0 m, insomma, non c'è una conversione tra lo 0, 0 coincide in queste due scale. Mentre invece, quando parliamo di temperatura, se questa è temperatura espressa in gradi Celsius, e invece io mi aspetto che la misura corretta, insomma, quella standard per la temperatura, sia in gradi Kelvin, queste due scale non hanno più lo 0 in comune. Quindi facciamo finta che mi trovassi a avere non 20 gradi e 100 gradi, ma 0 gradi e 100 gradi. Io in questa formula avrei dovuto fare 100 diviso 0, che è impossibile, non lo posso fare, è un valore che non posso calcolare matematicamente. Sarebbe stato un po' un problema. Allora, questa formula qui, ma tutta l'equazione di stato in realtà ha senso, insomma, quando la temperatura è espressa in Kelvin. In questo caso non possiamo usare il trucchetto di non cambiare l'unità di misura, in questo caso va per forza fatto. Non siamo costretti invece a cambiare il volume. Il volume qua è espresso in litri, noi volendo possiamo lasciarlo in litri. anziché convertirlo in decimetri cubi e poi in metri cubici. Questo appunto se però il problema ci richiede il valore in litri. Magari poi se, lo dico adesso, vediamo se mi ricordo anche da quando ho finito l'esercizio, lo calcoliamo in litri e poi lo convertiamo in metri cubi. Controlliamo, insomma, vediamo se lo farò davvero. Allora, cominciamo a convertire queste grandezze. La temperatura iniziale è 20 gradi, ora fatemi spostare un po' il tutto, sposto un po' tutto questo, così non mi dà fastidio. Allora, questi 20 gradi a cosa sono uguali? Adesso io userò una conversione un po' a spanne, se volete, insomma, non troppo precisa, ma come converto da gradi Celsius a gradi Kelvin sommeremo 273, usando come valore dello zero assoluto meno 273 gradi Celsius. Poi ci sarà qualche virgola, virgola 15, virgola 16, ma adesso per questo esercizio, insomma, l'approssimazione che usiamo è sufficiente. Per cui sommare 273 vuol dire che 20 gradi centigradi corrispondono a 293 gradi Kelvin. Il Kelvin non ha il pallino, mi raccomando, non fate questo errore. Mentre invece 100 gradi corrisponderanno a 373 Kelvin. Ora andiamo a inserire i valori nella formula. Chi è il valore finale, il volume finale, scusate, di questo gas durante questa trasformazione? Il volume iniziale era 4 litri, quindi 4, per la temperatura finale, che è 373, fratto quello iniziale, che è 293, stavo scrivendo 70, 93. Questo calcolo si fa con la calcolatrice, manualmente, e se io non lo rifaccio, perché l'ho fatto prima, però spero di non ricordarmelo male, di non aver fatto errori, è 5,09 litri. Metto Lt, non sono neanche sicuro che il litri sia Lt, invece che L è minuscolo, ma tanto non essendo standard, non lo uso mai, insomma. 5,09 litri, vuol dire che il volume è aumentato. effettivamente, in una trasformazione isotherma, isobara, scusate, isobara, forse vi ricordate che aumentando la temperatura, ci si aspetta anche un aumento di volume, perché appunto, pensando la temperatura, la pressione vorrebbe aumentare, la pressione non aumenta, perché è il volume che aumenta, compensando il tutto. e 5,09 litri, come lo convertiamo in metri cubi? Spero che lo ricordiate, così mi sono ben ricordato di farlo, quindi anche voi spero che vi ricordiate come si fa a convertire, ma 5,09 litri, cosa sono? Allora, beh, forse vi ricordate che un litro corrisponde a un decimetro cubo, per cui la prima cosa da fare è riscrivere questa come 5,09 decimetri cubi. Ok? E come lo portiamo in metri cubi tutto questo? Beh, tra decimetri e metri c'è uno spazio, per cui 5,09 per, ora c'è uno spazio, ma siamo nel mondo dei cubi, dei volumi, quindi ogni gradino conta per 3, per cui 5,09 decimetri cubi, se avete un decimetro cubo, corrisponde a 10 alla meno 3 metri cubi. Ok? Ci vogliono 1000 cubettini a un decimetro cubo per comporre un metro cubo. E allora il mio risultato finale è già scritto in forma scientifica, non sto a modificarlo, 5,09 per 10 alla meno 3 metri cubi. E questo è il secondo esercizio. Ci spostiamo adesso al terzo e ultimo, che è quello un pochino più complicato e sarà anche un pochino più lungo, quindi spero di abbia pazienza. Insomma, noi abbiamo un gas che si trova in uno stato che viene chiamato A, in cui occupa un volume di un decimetro cubo alla pressione di un'atmosfera, e subisce una trasformazione lungo questa linea, quindi non è nessuna di quelle note, diciamo, quelle semplici che abbiamo visto fino adesso, fino ad arrivare a un punto B che ha un volume di 2,5 decimetri cubici e una pressione di 2 atmosfere. Sappiamo che il gas è composto da 3 moli, di un gas perfetto monotomico, quindi gas monotomico, monoatomico, e ci viene chiesto in questa trasformazione quanto vale il lavoro svolto dal gas in questa trasformazione e quant'è il calore scambiato con l'esterno, insomma, con altre sorgenti. Questo è un problema proprio di termodinamica, allora, in cui non solo ragioneremo sulle trasformazioni dei gas, ma anche sul primo principio della termodinamica, che poi andiamo a vedere. Io comincerei, insomma, con la pratica più semplice, quella di calcolare il lavoro svolto dal gas. Ora, se vi ricordate, appunto, nelle spiegazioni, ci sono varie formule, per calcolare il lavoro a seconda di qual è il tipo di trasformazione, ma in generale, quello che rimane vero è che il lavoro può essere visto come l'area sottesa dalla curva, insomma, dalla linea che rappresenta la trasformazione in un piano PV, come in questo caso. Ora, se io voglio trovare un lavoro espresso in joule, come voglio che sia, ho bisogno, però, stavolta, qui non si scappa, che la pressione sia espressa in pascal e che il volume sia espresso in metri cubi. Per cui, cominciamo prima a chiederci qual è la formula da usare, poi cambieremo i valori per inserirli nel nostro conteggio. Allora, cominciamo. Qual è la formula da usare? Che figura è questa? Non serve a tirare in ballo integrali e altro qua, perché, appunto, la formula è molto semplice. Questa area che ho definito in rosso, di fatto, è un poligono, un quadrilatero molto semplice, è un trapezio, un trapezio rettangolo. E, di solito, la formula dei trapezio è quella che non si dimentica mai, che si studia, forse già all'elementare o, beh, sicuramente alle medie, e com'è? Come si calcola l'area del trapezio? Allora, la chiamo A per dire che è l'area. Cos'è che era? La base maggiore del trapezio più la base minore, aiuto, più la base minore del trapezio, tutto per l'altezza diviso 2. Ora, in questo disegno, chi è la base maggiore? È, di fatto, questo lato che corrisponde alla pressione finale, la pressione del punto B. Per quanto riguarda, invece, la base minore è questa, quindi la pressione iniziale, questo è il segmento qui, quindi 1, 1 atmosfera. L'altezza sarà la differenza tra i due volumi, quindi si vede 1,5 decimetri cubici, e poi si fa diviso 2. Conviene, però, dicevo appunto, anzi, non conviene, è indispensabile convertire i valori di Pa, Pb, eccetera, in Pascal e in metri cubi, per cui, chi sarà Pa? Pa è una atmosfera che diventa, l'ho fatto vedere prima, banalmente, 1,01 per 10 alla quinta Pascal. La pressione finale B non sarà altro che 2 atmosfere, per cui basterà fare 2 per 1,01, se preferite 2,02, insomma, questo è la stessa cosa, per 10 alla quinta Pascal, questo è un 5. Abbiamo il volume iniziale Va che vale 1 decimetro cubo e quindi, l'ho detto prima, 1 decimetro cubo diventano 10 alla meno 3 metri cubi e infine il volume finale Vb che è 2,5 decimetri cubi e diventeranno 2,5 per 10 alla meno 3 metri cubi. Questi qua sono i valori iniziali, insomma, i dati del problema. Per cui, il lavoro svolto dal nostro gas, lo scrivo sempre col nero, dai, va bene, il lavoro svolto dal nostro gas, non sarà altro che l'area di quel trapezio, per cui basterà mettere le due pressioni, quindi Pa, P, P, B, qua vuol dire 3 atmosfere, quindi di fatto vuol dire, ma sì, lo scrivo dire direttamente, dai, vuol dire 3,03 per 10 alla quinta Pascal, per l'altezza, che appunto è la differenza tra i due volumi, quindi 1,5 per 10 alla meno 3, tutto quanto diviso 2. Questo numero, anche qui si può calcolare a parte o rifarlo adesso, l'ho già calcolato prima, comunque potete farlo tutto in un calcolo unico, oppure fare prima la parentesi, poi l'altro, io consiglio sempre di fare il calcolo unico, alla fine questo valore a me è venuto 227,25 J. Questo è il lavoro che viene svolto dal gas, durante la sua espansione. E questo L, il primo punto, l'abbiamo trovato. Ora ci chiede Q, ma per calcolare Q, vi dovrei conoscere appunto il calore scambiato in questa trasformazione. E allora quello che faccio è appoggiarmi al primo principio della termodinamica e dire, ok, per trovare Q, quindi un Q punto di domanda, come faccio? Beh, ci ricordiamo che il primo principio diceva che ΔU era uguale a Q-L in una trasformazione termodinamica. E cosa allora so in questo pezzo? Penso che L è il valore che ho appena calcolato, no? Questo. Q lo devo calcolare, ΔU io lo posso calcolare, perché anche se non conosco qual è il tipo di trasformazione che è avvenuto, io posso usare per un gas monatomico quella formula che vi ho fatto vedere, credo, in uno dei video precedenti, che mi dice che, appunto, se il gas è monatomico, ΔU è uguale a tre mezzi, N numero di moli per R costante dei gas, per ΔT. Ora, se io riesco a ricavare chi è ΔT, perché nr sono costanti e ce le ho, se ricavo chi è a temperatura iniziale, quella finale, posso calcolarmi ΔU. E per calcolare ΔT, quindi T iniziale e T finale, visto che questa è una trasformazione che non conosco, userò l'equazione di stato. Io conosco P e V di entrambi queste parti, conosco il numero di moli, posso calcolare chi è T, da ognuno, insomma, da A e da B. Non so, ci sono magari anche altri modi di procedere, però vi faccio vedere questo adesso io. Per cui, cominciamo a calcolarci chi è T A, cioè la temperatura iniziale. Come facciamo? Partiamo dal fatto che PV è uguale a N per R per T, come detto prima, per cui, da una formula inversa, mi verrà che T A sarà pressione per volume, diviso numero di moli per R. Adesso il calcolo lo faccio insieme a voi, perché, appunto, non ce l'ho pronto da copiare, quindi questo lo faccio praticamente in diretta, anche se questo non vi ho registrato, ma lo sto facendo in diretta. Ora, che calcolo facciamo qua? P per V, o A, V A, ovviamente, no? P iniziale e V iniziale. Ora, la pressione iniziale, P A, era 1,01 per 10 alla quinta, quindi 1,01 per 10 alla quinta, per il volume A era 1, quindi basta solo fare 10 alla meno 3, tutto fratto il numero di moli che è 3, questo è un 5, ho scritto male, ma è un 5, e il numero di moli che è 3 per la costante di gas, che non ho detto prima, ma è 8,31 J su mole Kelvin, ma adesso non ho messo unità di misura. Faccio questo calcolo, in diretta con voi con la mia coccatrice, 1,01 per 10 alla quinta, poi c'è quel per 1 per 10 alla meno 3, eccolo qua, tutto diviso aperta tonna, faccio 3 per 8,31, chiusa tonda, mi viene fuori come valore 4,05, allora 4,05 Kelvin. Ora, a questo punto uno potrebbe obiettare a dirmi sì, è parecchio freddo questo gas, sì, è un gas parecchio freddo, molti materiali a questo punto sono già allo stato liquido o solido, però appunto qui io per fortuna non ho detto che tipo di gas è questo, quindi potrebbe essere qualunque cosa, sono 3 moli di gas monatomico e hanno questa temperatura. E quindi, ok, in questo stato noi vogliamo 4,05 Kelvin di temperatura, mentre nello stato B, nel punto B, noi dovremo sempre P, B per V, B diviso N per R, in questo caso P, B era, abbiamo detto, dove è il valore, 2,02 per 10 alla quinta, 2,02 per 10 alla quinta, per il volume finale, era 2,5 per 10 alla meno 3 metri cubi, e ancora diviso 3 per 8,31. Vi faccio fare anche questo calcolo, allora, poi rifaccio la capa, lo faccio prima, 2,02 per 10 alla 5, per 2,5 per 10 alla meno 3, diviso, aperta tonda, 3 per 8,31, chiudata tonda, uguale, e il valore che ottengo è di 20,26, 20,26 kelvin, quindi in questo caso, parecchio freddo anche a temperatura finale. Questo è il mio T iniziale e T finale, T a e T b. Ora, usiamo questi due valori, dentro questa formula, per calcolare delta U. Per cui, delta U cosa mi diventa? Allora, delta U è uguale a 3 mezzi, per 3, che è il numero di moli, per 8,31, per delta T, che non sarà altro che 20,26 meno 4,05. Faccio questo controvolo e poi vi dico una, una precisa una cosa, per chi vuole essere un po' più serio, un po' più preciso in questo tipo di calcolo. Allora, 1,5 per 3, per 8,31, per la differenza fra 20 e 26, e 4,05. Votevo come valore 606, circa 606, 1,5 per 3,31, 20, vado a controllare un secondo, sì, vado solo a controllare per sicurezza, ma è corretto, 606,17, se usiamo due decimali di approssimazione, e questo è della variazione di energia interna, quindi si userà anche lei in Joule. Allora, cosa abbiamo noi qui? che abbiamo un lavoro svolto dal gas di 227,25, e siamo stati capaci di calcolare la delta U usando questa formula qua, tre mezzi nR, delta T, e ho ottenuto come risultato appunto 606,17. Quindi a questo punto, chi è il lavoro? scusate, il calore scambiato Q. Io da questa formula del primo principio della termodinamica, qua sotto, andrò a ricavarmi chi è Q. Allora, se delta U è uguale a Q meno L, basta portare L a sinistra e poi ribaltare il tutto, Q sarà uguale a delta U più L. Prima di andare avanti vi dico appunto, che ho promesso che avrei detto una cosa, cioè chi ha l'occhio un po' lungo magari, si sarà accorto che in questa formula c'è 3 per 8,31 qui al denominatore, e qua c'è un 3 per 8,31 a numeratore moltiplicati, per cui se io avessi fatto subito il calcolo mettendo non il valore di T a e di T b, ma P a via su nR, P b via B su nR in questa formula qui, avrei semplificato n per r con quello che c'è dentro, quindi avrei potuto anche non conoscere in questo caso il numero di molli, però avrei fatto fare un giro diverso avendo quel numero di molli lì, abbiamo calcolato il valore. ma delta U più L, quindi si poteva anche appunto evitare di trovare i valori approssimati della temperatura, si poteva andare direttamente usando P b, V b e P a via. Ok, Q è delta U più L, allora chi è delta U? L'abbiamo appena calcolato, è questo 606,17, e va sommato al lavoro svolto, che è invece quel 227,25. 227,25. E anche in questo caso vado a fare la somma in questo momento indiretta, 606,17 più 227,25, viene 833,42. giusto per commentare così il risultato finale, che è questo qui, giusto per commentare un attimo il risultato e l'esercizio. Ora, cosa vuol dire che il lavoro qua è positivo? Vuol dire che questo gas appunto espandendosi ha fatto un lavoro positivo sull'ambiente, non stupisce che L sia un numero positivo, visto che appunto il gas si è avuto questa espansione. Se fosse stato invece come stato iniziale B e finale A, quindi una contrazione, forse vi ricordate, avremmo potuto usare quest'area con un segno negativo, perché quando le trasformazioni vanno, diciamo, da sinistra a destra, in questo caso vanno appunto, quando il senso di percorrenza è da destra a sinistra, l'area sottesa alla curva viene considerata negativa. Quindi non stupisce che il lavoro sia positivo. E dal punto di vista ΔU invece cosa vuol dire? Che ΔU è un numero positivo, 606 J, quindi l'energia interna è aumentata, vuol dire che, come abbiamo visto, la temperatura finale è più grande di quella iniziale. Per cui se aumentiamo T, l'energia interna che è solo una funzione della variabile T, insomma la funzione di stato di T, ovviamente aumenterà anche lei, per cui ΔU sarà un valore positivo. E alla fine ho avuto questo valore, quindi il calore scambiato in questa trasformazione con l'esterno è di 833,42 J. Quindi io, insomma, chiudo qui, ho concluso qui questi esercizi, vi rifaccio un attimo di vedere in generale, insomma, se ci stanno nella schermata senza andare troppo indietro, in piccolo con lo zoom. Ho fatto solo tre esercizi non particolarmente complicati, l'ultimo era un pochino lungo, con alcuni passaggi intermedi, ma niente di esagerato, su quei concetti che ho trattato nelle spiegazioni. Io spero che questo basti, insomma, che sia abbastanza meno per cominciare a provare a mettere in pratica quello che dovreste aver studiato. Se ci sono dubbi particolari o domande o altre richieste, volete farmele, e se possibile, come ho fatto adesso, cerco di accontentarmi. Vi saluto, ciao a tutti, buono studio come sempre, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!